Il recupero di Zeman senza dubbio la notizia più bella. Dopo il grande spavento il Boemo sarà in panchina per l'ultimo impegno del 2023. Di fronte all'Adriatico la Cenerentola fermana. Dare continuità significa centrare il quarto successo nelle ultime cinque gare. Vado avanti, senza fumo si può stare. Vediamo quanto mi dura. Ho resistito dieci giorni. Sono contento che ho sentito tanta gente che mi ha scritto. Più che sentito ho letto. Mezzomondo mi ha scritto per farmi auguri di pronta guarigione. Penso che anche la squadra ha risentito la mia assenza. Ma non perché li faccio spaventare ma perché si preoccupavano per la mia salute. E' vero che fermana è ultima in classifica però queste sono le partite più difficili. Nel senso che non richiamano la concentrazione necessaria di solito. Io vorrei che la squadra pensa che gioca con i primi in classifica, non con ultimi. Indisponibili Pellacani, Franchini, Aloi e Accornero che rientrerà in gruppo il 28 dicembre. Niente di grave per l'attaccante di proprietà del Genoa, stiramento di primo grado del collaterale del ginocchio sinistro. Il probabile 11, Pizzari tre pali. In difesa Floriani, Brosco, Messic e Milani. In attacco il tridente Merola, Cuppone e Cangiano. A centrocampo con Squizzato e D'Agasso, forse Tuniov che dovrebbe vincere la concorrenza di De Marco. Sull'Eston, Zeman si esprime così. Le doti ce l'ha, lui in allenamento e nelle prove atletiche. Non ha mai molato, ha lavorato sempre e si dimostra vivo. Poi in partita ogni tanto si blocca e sta fermo e me la guarda la partita. Che già ci sono io che la guardo e non ci bisogna, che la guarda pure lui. Fa un po' fatica ad andare senza palla, Tuniov, ma per caratteristiche o per un fatto che diceva anche Andrea? Caratteriato, non so. Non so per caratteristiche perché lui vuole parlare sul piede. Ecco, per quello. Per passare sul piede deve stare fermo. No, speriamo che cambia. Perché il giocatore ha i mezzi fisici e tecnici. Fermana, come si diceva, ultima in tutto, fanalino di coda, peggiore attacco, 10 gol, difesa più perforata, 28 reti, in trasferta appena tre volte a segno. L'ultima di fatto due mesi fa, lo scorso 25 ottobre, 2-1 ad Olbia. Numeri senza dubbio impietosi, ma squadra in serie utile da tre partite. Due pareggi ed una vittoria nell'ultimo turno casalingo con la Juve Under 23. Out Paponi e Montini, Fontana scolificato, fuori lista Padella, Calderoni e Laverone. Il tecnico Stefano Protti, subentrato a Andrea Bruniera, dopo sette giornate si affida alla 4-3-3. Probabile 11, Furlanetto Trepali, in difesa Santi, Spedalieri, Gasbarro e Pistolesi. In cabina di regia Manuel Giandonato, abruzzese di Casoli, ex giovanili del Fino. Mezziali, Scorza e Misuraca, davanti Eleuteri e Tili, a supporto di Semprini. Sì, vabbè, c'ha un tecnico importante che ha delle linee guida abbastanza precise. Le fa da anni anche nel calcio importante, le ha trasportate qua, una squadra giovane, ma giovani di un livello importante, tutti sia le prime che le seconde linee, perché hanno per ogni ruolo un doppio giocatore, un doppio giocatore importante. Siamo consci che Pescara, Mizzuanno, era la super favorita, sembra Gesena. Con quelli che abbiamo ce ne andiamo a giocare a petto in fuori. In Abruzzo cinque precedenti, altrettanti successi del Delfino. Il più recente in Coppa lo scorso 5 ottobre, 6-1. Fontana illude la fermana, che poi sarà travolta in evidenza Manu. Due golle, un assist per il 4-1 di Tommasini. Le altre reti di Cangiano, Accornero e Merola, su calcio di rigore. Al ventisesimo, a prensione, fortunatamente, senza alcuna conseguenza per Zeman, scivolato nel fossato della sua panchina per un contatto fortuito con il terzino ospite Pistolesi. In Serie C, 22 anni fa, 2 settembre 2001, il Pescara di Ivo Iaconi vince 3-0. La sblocca Tacconelli. Poi Santarelli neutralizza il rigore calciato dal vastese Lemme. A 12 dal termine, secondo giallo per il difensore Bonfanti. Fermana in 10, da poco entrato, primi gol tra i professionisti per il 19enne Daniele Croce. Doppietta, senza dubbio da ricordare. La stagione successiva, 16 febbraio 2003, finisce 3-1. Gol di Andrea Cecchini, Federico Giampaolo e Pasquale Apa per la fermana a segno De Silvestro, ex salernitana. Due anni fa, 16 ottobre 2021, il Pescara di Auteri si impone 2-1. 1-0 di Ferrari sul calcio di rigore, raddoppio di De Marchi. Il controllo, sombrero e destro avvincente per gli ospiti di Riolfo, accorcia Nepi su calcio di rigore. Il precedente più bello e avvincente in B, il 26 settembre 1999, appena promossa la fermana dei miracoli, targata Ivo Iaconi spaventa i biancazzurri. Sotto di un gol Zanini, i Canerini la ribaltano grazie a questa doppietta di Max Fanesi. All'intervallo però l'intuizione di Giovanni Galeone che sfrutta in un'unica soluzione tutti e tre i cambi. Fuori riusciti, Sullo e Maurizio Rossi dentro, Giacobbo, Allegri e Palumbo. Contro ribaltone e vittoria per 4-2. Marcatori ancora Zanini, quindi Palumbo e da ultimo il gioiello di Massimiliano Allegri. Finta e collo esterno di raro pregio sotto l'incrocio. Imparabile per l'ex Mimmo Cecere, purtroppo scomparso. Troppo presto.